Siamo alle crisi industriali del Sulcis che passano per la questione metano in prefettura Cagliari. Un incontro sulle varie posizioni tra la fame di gas degli stabilimenti energivori come Eurallumina e i timori del territorio. Salvatore Lussu. Le industrie energivore del Sulcis hanno fame di gas. Il territorio e le associazioni ambientaliste hanno paura della nave metaniera che dovrebbe attraccare per 30 anni a Portovesme. Intanto nulla si muove, mentre sulla questione pende anche un ricorso della regione al Consiglio di Stato. Un tema al centro di un incontro in prefettura con i sindacati, in vista di un'informativa che il prefetto invierà entro fine mese alla presidenza del Consiglio dei Ministri. È una situazione molto complessa in cui convergono due esigenze. Ovviamente io mi limiterò semplicemente a portare il polso della situazione. Le parti sociali insistono a chiedere una strategia chiara. La Giunta regionale ha questa responsabilità, dire ora e subito quando e come si potrà avere il gas in Sardegna. È una risorsa importante che sta arrivando in Sardegna a prezzi non regolati e senza che ci sia un'infrastruttura capace di dare risposte alle famiglie e alle imprese. Il problema è la ripartenza di una vocazione industriale che può garantire effettivamente un percorso nuovo in un territorio che ha bisogno di una risposta. Intanto l'assenza di un orizzonte rischia di fare una prima vittima. Gli investitori dell'Euroallumina potrebbero andarsene già a maggio lasciando a casa 1.500 persone. Si rischiano 1.500 posti di lavoro equivalenti a un territorio martoriato come il sul Cisiglesiente. Noi siamo stati lattenti non per altro ma perché c'era stato promesso con il DPCM Energia a Sardegna che la soluzione del gas per il riavvio dell'Euroallumina da qui al 2025 sarebbe stata risolta. Intanto il disagio sociale cresce e domani i lavoratori scenderanno in piazza Cagliari.